E ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui sul vostro caro Dexter Il videogioco Non ho la più pallida idea di cosa ci aspetta Anche perchè c'è Moscardelli Superman e gli Illuminati I soldi e fregapane E ragazzi io vi chiedo di lasciare un pollicione in su per questi ragazzi che si sono impegnati E hanno lavorato tanto a questo gioco 15.000 mi piace Prossimo episodio perchè penso ci saranno livelli Ci sono 6 livelli E soprattutto date un voto a questo gioco da 1 a 10 qua sotto nei commenti Ma adesso siamo pronti a iniziare Gioca Moscardelli Super Servirebbe un ingrediente per il mio kebab Eh si So dove trovarlo e so chi ce l'ha La cipolla Noi possiamo aiutarvi Diteci solo dove andare E noi ve lo porteremo Dobbiamo solo fabbricarci delle armi Ok Che cazzo è? Le incazzate Gli Illuminati sforano Ah no quelle sono cipolla Che cazzo E' la cosa più epica che io abbia mai visto E ragazzi quindi la storia è Moscardelli ha bisogno della sua cipolla Per fare i suoi kebab E ha chiesto aiuto agli Illuminati Che hanno prodotto delle cipolle incazzate E ora ci sono io Su una piramide Degli Illuminati Che devo andare avanti Non si sa perchè Per aiutare i moscardelli Forse a consegnare La cipolla Perchè c'è fregapane in alto E' la cosa più bella Che io abbia mai visto Presuppongo sia un rage game Oh Lo è Quindi saltiamo di qua Via Ok Sulle banconote Oh occhio alle cipolle Incazzose Via Mamma mia Se non sono Un pro Ciutto Perchè No regà Allora già avete fatto un gioco su di me Ed è da pazzi Giocarci ancora più da pazzi Porca troia Io vorrei dire che questo gioco è bello No Che mi diverti Che è una figata pazzesca Perchè cammino e corro sui soldi Ma se mi devo incazzare Questo punto è impossibile Ok E' possibile Vai Sì Occhio alle cipolle No Che pro No cazzo Un checkpoint non lo potevate mettere No eh Oh Moscardelli Che babberia da Moscardelli Eccoci Siamo arrivando amico Moscardelli Dove cazzo devo andare Sotto Da Moscardelli Livello 2 Maledetto che bab No ragazzi Io lo giuro vi amo Non siamo arrivati in che babberia E c'è una cipolla enorme Ciao cipolla Dammi un bacino così poi mi puzza l'alito Non mi insegui vero No Sta solo lì messa così Più di pai Mio Ma devo raccogliere i più di pai Mi sa Che sono ingredienti giusti per il mio kebab Vai raccolgo il terzo più di pai Oh ah no Che babberia da Moscardelli Non l'ho capito Probabilmente ho raccolti i più di pai Non diamo senso a una cosa che senso non ce l'ha Livello 3 Incontrai Spongebob Illumid Ok Quindi io devo raggiungere Ok No Oh ce l'ho fatta Quindi se ho ben capito Io devo andare qua sopra A chiappare più di pai Porco due Ho preso più di pai E' morto più di pai Non so cosa Possa centrale più di pai Con il mio kebab E' morto di nuovo Sono morto Ragazzi Il livello è impossibile Ma più di pai ci protegge Il problema E che cazzo Il problema è questo Ma se io vado così proprio A cap No Ma perché Guarda che cazzo devo fare Peppi a man kebab Devo andare a quella sotto casa Invece no Devo andare a Moscardelli Perché fa il kebab più buono al mondo E quindi vai da Moscardelli Oh Ah Ma perché devo andare a Bikini Bottom Per prendere un kebab Maledetto Spongebob Illuminato Ragazzi Siamo qua da 3 ore Ma vaffanculo Ok Non so come Ma ce l'avevo quasi fatta Vai più di pai Voi for us Voi for us Sì così va Oddio 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 Quindi se ho ben capito Io adesso devo andare qua Sì Dai 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 cazzo Sì 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 E se muoio adesso mi incazzo come una bestia Ho preso una lattina Ha fermato i cheeseburger Vaffanculo Spongebob Illuminato Ciao Possiamo andare? Possiamo andare Che babberiamo a Moscardelli Porca miseria Livello 4 Fa freddo qui Incontrerai Cola Ehm Oh Hello motherfuckers Oh merda Oh merda Colaff Eravamo amici Colaff Vaffanculo Bene Ci sarà da incazzarsi No regà Porca Cazzo Prema Vai colaff Ok sono protetto qua Colaff Motherfuckers Vaffanculo Ma un checkpoint qua no eh Porco schifo Oh Ok Prendilo Si Vaffanculo Oh Colaff E ora E ora Colaff Oh Colaff Con quegli occhi dell'illuminato La carota Colaff Mettitela nel Livello 5 Ci sono quasi Incontrerai la 600 Di Jumping Jumping Ai limiti dell'evoluto Quando chiedo aiuto Tutti qui con te Chi sa perché Regà Io cazzo Questo gioco lo mando a tutta L'illuminati crew E sfido tutti loro La devono fare Cioè la 600 di Jumping Mi vuole investire Sto volando Prendi PewDiePie Devo prendere tre PewDiePie Uno è preso Regà Il secondo PewDiePie è preso Devo prendere il terzo L'ho fatto Ho preso il terzo PewDiePie Cosa Moscardelli e Jumping Tech si sono evoluti Sono diventati un kebab unico Olco 2 Lancia la 600 Prendi il terzo PewDiePie Occhio a Jumping Tech Preso Mannaggia le bombe Porco 2 Ok ok City e buoni No le bombe Porca troia le bombe Porca troia le bombe Si cazzo Si cazzo Si cazzo Si cazzo Si cazzo Fino al livello finale Finalmente ci sono Sono in cima Alla piramide degli illuminati Possiamo fare tutto Possiamo sconfiggere Il boss finale La 600 di Jumping Tech Si sta schiantando Si è schiantata Il boss finale Chi sarà Moscardelli No è fregapane No non è possibile Non è possibile Sta per riuscire a prendersi Devo riprendermi Ho portato Che bambino Cioè Moscardelli Mi aveva fregato Fregapane Fai schifo Vaffanculo Vecca car... Grazie a voi Sergio e Vito Ma non ho capito Grazie mille Ciao Quindi Ricapitolando Moscardelli Aveva rubato Fregapane Perché aveva bisogno Della cipolla Quindi fregapane Gli fregava il pane Con la cipolla Si è alleato Con Jumping Tech E gli illuminati Boom Bene ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Questo gioco È fantastico Fatemi sapere Se lo volete Anche giocato Dalla illuminati crew Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Facebook e Instagram Li trovate in descrizione Io vi mando Un abbraccione Un salutone Lasciate pollicione in su Per questi ragazzi Si sono impegnati A fare questo gioco epico E ci risciau Ugrientem A fare questi colori Rezogissimamente Che schifo UiSTIEM UiSTIEM